Gioco orientato sul numero 1 Perfect Baby, 2.31 la quota al totalizzatore, tanto ci sono problemi per Pandora S, poi rimesso, ma comunque ha perso il lancio. Macchina che va per lasciare i concorrenti, nel centro schieramento prova il numero 5 Porsche R sull'errore di Pettinino, ma Pascal Intor che si insedia al comando nei confronti di Porsche R all'esterno, l'errore di Pascal Intor che lascia così in testa Pepita Sko nei confronti ora di Porsche R e poi ancora più indietro gli altri con la via del largo presa ora dal numero 7 Paola. Un po' di bagarre nella prima fase, la schiena di Paola che è presa dal numero 1 Perfect Baby, Paola che passa nei confronti di Porsche R, quindi Perfect Baby, poi ancora Pepita Sko, Perfect Baby che va allora al fianco di Paola, quando siamo sulla seconda curva 44.4 i 600 si mette in seconda posizione Perfect Baby agli 800 in 59.5, Paola alla comando nei confronti di Perfect Baby, poi Porsche R sopravanzata dal numero 11 Parigino Prince, tutto ciò mentre si arriva al passaggio al chilometro in 1.14.3, sta andando abbastanza veloce Paola che ora si trascina sempre Perfect Baby, poi ancora il numero 11 Parigino mentre prova ad avanzare a largo anche Paciuli Lux, quando siamo a metà della piegata conclusiva con Perfect Baby che ora si affaccia per andare all'attacco del Battistrada Paola, all'ingresso e addirittura arrivo Paola al comando, Perfect Baby al suo esterno, poi Paciuli Lux che sta rinvenendo, Perfect che attacca a fondo Paola, Perfect Baby che sta passando nei confronti di Paola, Perfect Baby che viene a concludere nei confronti di Paola, Paciuli Lux, e ancora il numero 11 Parigino Prince, 1.59.9 che significa 1.14.9 di media al chilometro, la vittoria per Perfect Baby, Roberto Andreghetti alla guida per il training di Eric Bondo, i colori della scuderia Wave, una quota sicuramente non altissima, 2.31 per il vincente ma comunque ruolo di favorito rispettato per la figlia di Mr. Vic che conclude molto bene nei confronti di Paola che finisce buona seconda, mentre per il terzo numero 15 Paciuli Lux, 1.7.15 l'ordine arrivo provvisorio di questa quinta di Tor di Varla.